Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svago. Oggi siamo in casa Inokin per parlare di una nuova PodMod con alcune funzionalità aggiuntive interessanti, molto interessanti, ha una batteria interna a 3000 mAh non sostituibile e funziona. Bene, sia in flavor che in tiro di guancia, finalmente abbiamo un ottimo tiro di guancia. Oggi parliamo di SENSYS di casa Inokin. Un prodottino dietro il quale l'obiettivo principale è trovare la F, il codice segreto che abiliterà altre funzioni. E visto che Inokin vuole giocare con noi, io di conseguenza giocherò con voi. Quindi seguite tutto il video perché ne ho una seconda. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirci su tutti i social, venire sul gruppo Telegram Unico Svapo Review e noi ci vediamo subito dopo. Buona missione! Inokin SENSYS! E questo è il packaging di questa SENSYS di casa Inokin. Inokin. Ad aprirlo insieme, vi voglio far vedere la novità che è FIND F. Trova la F perché c'è un giochino all'interno che permetterà di abilitare delle funzioni aggiuntive e innovative per questo prodottino di casa Inokin. Ma all'interno della confezione troveremo bigliettino contenente il QR code del club di Inokin FIND F dove troveremo dei suggerimenti che ci permetteranno di risolvere il codice per sbloccare le funzioni aggiuntive. Io da un paio di giorni che ci provo e non ci sono riuscito. Un certificato di garanzia, un manuale di istruzione in lingua inglese. Andiamo a sfogliarlo insieme perché vi voglio far vedere subito le caratteristiche di questo prodotto. Vediamo le dimensioni che sono 121 x 40 x 30 mm. La pod può essere da 3.1 x 2 ml, una batteria interna non sostituibile da 3000 mAh, va da 6 a 40. Ricarica Type-C 5V 1.7A. Qui vedremo le varie coil utilizzabili su questa SENSYS, i materiali delle stesse coil e i vattaggi di utilizzo. Una prima bustina contenente una shaft coil in Cantal da 0.65 che vedremo tra un attimo. Una seconda bustina che invece andremo ad aprire insieme. Al suo interno troviamo un secondo drip tip per il tiro MTL. Due o-ring di ricambio. Uno ha un piccolo anello con questi fori che ci permetterà di montare le coil. E un adattatore 510 che ci permetterà di utilizzare i nostri atomizzatori preferiti naturalmente con attacco 510. Immancabile cavetto USB Type-C per la ricarica e l'aggiornamento. Ricarica 5V 1.7A. Ed eccola questa nuova mod pod di casa Inokin scritta sul lato. Abbiamo questi inserti in pelle similpelle. Fatta in lega di zinco. Pesa 156 grammi. Le dimensioni avete viste? Frontalmente troviamo il classico tasto fire abbastanza ampio che va a ricoprire tutto il display. Il tasto up, il tasto down e la presa Type-C. Su questo lato la scritta SENSYS. L'inserto con le tre viti torx che tengono ben salda l'imbottitura. Una delle due asole presenti che grazie a questa levetta ci permetteranno di andare a regolare l'aria. Sotto troviamo CE smaltimento 3000 mAh. Vi ricordo batteria interna non sostituibile 3000 mAh. Sopra, per la mia gioia, troviamo la pod circolare. Andiamo a sganciarla. È tenuta in sede da questi tre magneti che faranno presa su questo oringone metallico. Pod da 3.1 ml fatta in vetro. Non abbiamo il PCDG, il materiale plastico, ma la scelta dell'inokin in questo caso è di farla in vetro. Drip tip che si può sostituire con attacco 510. Questo è il suo interno. Arriva con una coil premontata. La vedremo anche questa tra un attimo. Sotto vediamo CE smaltimento in quincensis. È questa linguetta, questo tappino, che ci permetterà di fare un comodo, veloce e rapido refill grazie a un forro abbastanza ampio. La coil, come tutte le pod circolari, è a innesto. Quindi andiamo a estrarla in questo modo. Prendiamo la bustina, apriamo la seconda coil che arriva tra le spare parts. Anche questa molto piccolina. Eccola qui. Prendo subito l'anello che servirà a montarlo. Lo andiamo ad avvitare. In questo modo. Perfetto. E vediamo le due coil che arrivano in dotazione. Avremo una SHAP3 coil dorata da 0,65 in Cantal a mesh. E, scusatemi con questo dito, infortunato non riesco a far granché. Andiamo a trovare le indicazioni. Un S-coil da 0,25 in Cantal che va da 25 a 35 watt. Anche questa è a mesh. Queste sono le due coil. Questo per un tiro da favor ristretto da favor e questo per un tiro MTL. Noi andiamo a inizializzare questa per il tiro MTL. Vi ricordo che l'inizializzazione è importante perché permetterà alla stessa cosa di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Andremo a inserire qualche goccina di liquido qui. E qualche goccina sui fori laterali. In questo modo. Prendiamo la pod. Inseriamo la coil ad innesto. Vi faccio notare che anche a pod piena è possibile sostituirla. Fate attenzione perché vi faccio vedere i fori di alimentazione del liquido per la coil. Sono posti veramente in basso. Quindi se voi andrete anche a pod piena a girarla in questo modo, purché il livello di liquido sia sotto i fori, potete tranquillamente andare a togliere la pod. Noi la inseriamo ad innesto, la portiamo fino a battuta in questo modo e andiamo a fare il refill. Tappiamo. Se c'è un po' di liquido asciughiamolo. Prendiamo il corpo batteria, la mod e inseriamo la pod in questo modo. Apriamo tutta l'aria, giriamo, tre click come l'adesivo presente sul display che noi andiamo prontamente a togliere. Ci dice di cliccare tre volte sul tasto Fire per accendere la mod, uno, due, tre. Inokin. Troviamo il simbolino dei watt che è la modalità di svapata, la carica la batteria, sotto il 50% sarà gialla e nel momento in cui si sta scaricando assumerà una colorazione rossa. I watt impostati, in questo caso se teniamo pigiato il tasto Up o Down ci permetterà di spostarci, lampeggerà, parte da, vi dico subito, 6 watt e arriva a 40 watt. Se togliamo la pod e la reinseriamo in questo modo non ci andrà in automatico nei watt consigliati, quindi dovremmo essere noi a impostare il corretto wattaggio. Io la metto a 20 watt per il momento, poi troviamo i secondi di svapata, gli ohm della coil, il numero dei puff e i volt in erogazione. Tasto Up e tasto Down insieme, in questo modo, ed entreremo nel menu, abbiamo la funzione Power in cui potremo scegliere sia la modalità watt oppure la modalità volt. In questo caso andremo a impostare i volt, anche qui teniamo pigiato qualche secondo, lampeggerà, potremo spostarci, sale di 0,1 in 0,1. Se teniamo pigiato arriverà a 7.5 volt. Rientriamo nel menu, poi abbiamo la nuova funzione che è Coil Plus. Questa funzione ci permetterà, potremo scegliere anche qui wattage o volt, per esempio wattage. In questa modalità Coil Plus, che riconosceremo anche che vicino al simbolino dei watt, ci sarà il simbolino più. Nel momento in cui rilasceremo il tasto Fire, la stessa mod continuerà l'erogazione per 0,4 secondi al 40% della potenza impostata. Questo permetterà, per ciò che dice Inukin, di andare a pulire la stessa coil e di preservarla, quindi di allungare anche la durata proprio della stessa coil. Ritorniamo nel menu, up e down insieme. Naturalmente la funzione Coil Plus l'abbiamo anche in modalità svapata voltage. Poi abbiamo la funzione Refresh, qui permetterà di fare una pulizia della coil. In questo caso, se andiamo su Run 1x, ci farà una pulizia automatica della coil. Se vogliamo fare una pulizia manuale, quindi a secondo di quanto piggeremo il tasto Fire, sceglieremo Extend Hold, che è questa qui. Mi dispiace, non si può sentire, ma si avverte una piccola attivazione della stessa coil. Torniamo su Exit, vi faccio vedere le funzioni restanti. Poi abbiamo Find F, trova la F. Qui avremo la possibilità di inserire il nostro codice a sette cifre per sbloccare delle funzioni aggiuntive. Io ancora non ci sono riuscito. Possiamo scegliere tra tasto Fire, Up o Down. Torniamo indietro. Poi su Setting possiamo scegliere se visualizzare il display in modalità Pro, così come avete visto, oppure in modalità minimal, in cui si visualizzano solo i secondi di svapata e i Watt o i Volt impostati, a seconda della modalità in cui stiamo svapando. Poi abbiamo Time Out, che ci permette di impostare il time out del display. Cut Off, che ci permette di impostare la lunghezza del tiro, arriva fino a 18 secondi, ve lo faccio vedere. Poi abbiamo Device ID, in cui vedremo l'ID della stessa mod. Reset per riportare la mod ai valori di fabbrica. Exit per tornare indietro. Io ritorno in funzione VariWatt. Quindi vado su Power, Wattage. La lascio a 20 Watt. Questa Inukinsensys Godi di tutti i sistemi di sicurezza. Adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme, ma prima voglio farvi vedere quanto è facile andare a montare il nostro adattatore 510 per montarci sopra e farla diventare una box classica e montarci sopra qualunque atomizzatore con attacco 510. Prendiamo lo Shoe, lo andiamo ad avvitare. In questo modo. Ok, me lo vado a riposizionare se la tenuta è quella che è, purtroppo, ma so che su questo sta lavorando la stessa Inukin, perché ci sono state diverse segnalazioni dei vari recensori, quindi sicuramente il prodotto che uscirà avrà una tenuta migliore di questo. Vado a togliere a questo punto l'adattatore, aspettando che ne arrivi uno fatto un poco meglio. Adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questa Inukin Senses. E non ci resta che andare a provare questa Inukin Senses con tutte queste funzioni aggiuntive che la rendono unica. Possiamo dirlo perché sì, la rendono unica. Allora, io ho la coil da 0,25 e sono a 25 Watt come consigliato da manuale. E questo, con l'aria tutta aperta, è il tiro che questo prodottino di Inukin ci regala. Ragazzi, è una buona coil, veramente una buona coil a mesh, regala un buon aroma, regala un discreto heat. Tutto sommato è una coil che mi sento di promuovere. Funziona, 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 bene. Qui ho attivato la funzione Coil Plus, che vi ricordo che è quella funzione che nel momento in cui rilasciate il tasto Fire per 0,4 secondi continua ad erogare il 40% del vattaggio che voi avete impostato. E questa funzione permette alla stessa coil di, passatemi il termine, rigenerarsi, quindi di durare più a lungo nel tempo. Una cosa che ho notato e che vi consiglio, nel momento in cui andate a fare il refill, un po' di condensa la trovate, la trovate con tutte e due le coil. Quindi, mi raccomando, andate a pulire. Purtroppo è un difetto, chiamiamolo così, intrinseco per questo tipo di coil che prendono l'aria dal basso. Qui, la regolazione dell'aria è perfetta. Avete un flavor ristretto molto, molto piacevole, con questa coil da 0,25, ma riuscite ad avere un vero tiro MTL. Come vi ho detto, è possibile anche a tank quasi pieno andare a sostituire la coil, e visto che io ne ho uno perché l'altro lo andrò a regalare, io vado con voi, in diretta, a sostituire la coil. Vedete, il livello del liquido è un po' più basso, giusto per sotto i fori di alimentazione del liquido, quindi vado a stappare in questo modo la coil, metto da parte, vado a prendere la coil MTL, che è questa qui, la coil da 0,65 che mi sta dando un sacco di soddisfazione, vi faccio vedere, vedete, non c'è liquido, non perde liquido. In questo caso vado anche a sostituire il drip tip, tolgo questo, e vado a mettere quello in ulterno, sempre che troviamo in dotazione, che è fatto per il tiro MTL. Me lo vado a posizionare, come ogni pod circolare che si rispetti sulla sua mod, e qui la nota dolente, però ho parlato con Inoki e mi hanno detto che sicuramente o faranno un aggiornamento o già uscirà in commercio questa census con la funzione smart, che permetterà nel momento in cui andate a cambiare la coil e di impostarvi in automatico il vattaggio suggerito per quella coil. Quindi io questa la riporto a 12 Watt, va da 9 a 12, io a 12 mi trovo benissimo. Ok, 12 Watt, vi faccio vedere. Vado a chiudere l'aria, se la chiudete per l'interno il tiro è chiusissimo, cioè quasi impossibile svaparci, l'aprite un pochino, di qualche millimetro, e questo è il tiro MTL con questa coil da 0,65, chapter coil, che vi regala. Ragazzi, spettacolare, lo apro un altro pochino, finalmente abbiamo la possibilità anche su questi prodottini di regolare per benino il tiro. Lo apro un altro po'. Ora, il tiro è perfetto, cioè potete calibrarlo così come piace a voi, da un tiro chiusissimo, un tiro leggermente aperto, un tiro più aperto, insomma, il tiro è veramente un tiro MTL finalmente. La coil da 0,65 si comporta benissimo in tiro MTL, il calore che vi restituisce è perfetto dal mio punto di vista, potete poi lì stare a giocare tra i 9, i 12, anche 13 Watt, a secondo del liquido che state svapando e del tipo di vapore che vi piace. Vi faccio sentire la funzione coil plus, cosa regala? Quindi questo post-it che c'è dopo che voi avete rilasciato il tasto. Quindi io vado a premere il tasto, nel momento in cui lo rilascio, continua per quel millesimo di secondo a erogare. Un'altra funzione interessante che ho provato è invece la funzione refresh. Mi è successo, ma mi capita spesso con tantissimi prodotti, in questo momento sono molto distratto, sto provando tanti prodotti, ma sto cercando anche di partire dal punto di vista lavorativo, e quindi sono super distratto e super impegnato, mi capita spesso di steccare delle piccole steccate perché non mi rendo conto che il liquido è finito. Naturalmente mi è successo anche con la Senses. E qui, grazie alla funzione refresh, non sono state le staccate da paura, ma grazie alla funzione refresh ho notato che la coil, dopo delle piccole attivazioni, proprio grazie a quella funzione, la coil si è ripresa in modo ottimale. Ora, non so se è la coil, non so se è la funzione, comunque sembra funzionare. Da quello che ho capito, la funzione refresh, in entrambe le modalità, eroga sia in batte sia in hertz, per un tempo prestabilito, e permette alla coil, diciamo così, di rigenerarsi, di ripulirsi, e quindi permette alla stessa coil di avere vita più lunga, e questa è un'altra cosa positiva. In più c'è la funzione, la trova, la F, la funzione è nascosta. Io non ci sono uscito per 3-4 giorni, poi vi dico la verità, me la sono fatta passare, non dai dirigenti Inokin, ma da un utente che aveva avuto la possibilità di provare questo prodotto, e mi ha dato il codice. Sono andato a abilitare quella funzione, e svapando in modalità F, vi permette di avere una sorta di curva, di erogazione, dove i watt impostati si vanno a incontrare con gli hertz che voi impostate in funzione F, e quindi avrete diverse modalità di svapo. Sicuramente non è una funzione, a cui non si può fare a meno, però è una modalità diversa di svapo, anzi, nel momento in cui avete la possibilità di acquistare, di provare questo prodottino di casa Inokin, fatemi sapere proprio cosa ne pensate anche di questa funzione F. Quindi, andiamo a prendere, a questo punto, non ci resta che prendere il telefonino, andiamo nelle note, troviamo Senses, vediamo dove sta, perché ci sono parecchie note, e vi do le indicazioni per ciò che riguarda, la coil da 0,65 a 12 watt, il consumo medio è 110 puff, 120, 115, una pod, quindi poi dovete andare a ricaricare, ho fatto in totale, ragazzi, in totale, batteria 3000 mAh, non sostituibile, ho fatto in totale 620 puff, quindi, gestione la batteria, ottimo, in più, si ricarica in modo veloce, grazie alla Type-C, reale 1.7A, quindi, in meno di due ore, l'avete carica, ha la funzione Pastro, qui la Inokin, non lo dice a chiare lettere, ma dalle prove fatte, nel momento in cui voi lo andate a ricaricare, potete continuare tranquillamente, a svapare, prodottino, ragazzi, che è l'evoluzione, sì, è l'evoluzione della Croma, di questa qui, le linee ormai sono molto simili, non solo tra Inokin, ma anche tra diverse aziende, qui hanno deciso di utilizzare, una pod in vetro, mi è caduta diverse volte, avevo paura si rompesse, in realtà, è un vetro abbastanza, abbastanza resistente, perché non ha riportato, nessun tipo di danno, ma a differenza, di questa, della Croma, qui sono riusciti ad ottenere, un vero selettore dell'aria, non sono dovuti ricorrere, così come avevano fatto, nella Croma Z, degli anellini, per andare a chiudere l'aria, un ulteriore suggerimento, che devo fare alla Inokin, è relativo all'attacco 510, è fatto benissimo, inserirlo nella confezione, però, metti dei magneti, che facciano più tenuta, perché, con la pod, la tenuta è perfetta, cioè, anche sbattendola così, la pod non vola, però, se ci metti sopra, un atomizzatore, con attacco 510, tenuta, quella adattatoria, non le fa proprio, quindi, mi auguro, che Inokin risolva, anche questo piccolo problema, ragazzi, questa census, merita, merita, anche senza codice segreto, merita, ma io, il codice segreto, lo voglio da voi, quindi, come al solito, il primo, che andrà a scoprire, il codice segreto, nei commenti, sotto YouTube, io andrò a regalare uno di questi, semplicemente, così, quindi, utilizziamo Inokin come hashtag, unico svapo come hashtag, e dopo il codice segreto, il codice segreto è fatto da sette cifre, che è una combinazione tra il tasto più, il tasto meno, e il tasto power, che voi magari nei commenti potete indicare con una O, con uno zero, io andrò a controllare, man mano, i vari commenti, e nel momento in cui, troverò che, avrete inserito tutte e due gli hashtag, più il codice segreto, venite sul gruppo Telegram, e saprete a chi invierò, in modo totalmente gratuito, questa Inokin Senses. Adesso, non mi resta che ricordarvi, di iscrivervi al canale, lasciare un pugno di like, seguirci sui social, ma, non vi saluto, neanche con, la solita frase, ma, mi sono scritto una frase, più carina, che mi ha suggerito Rina, e questa la devo leggere, perché ancora la devo imparare, ricorda lo svapo, è il modo migliore, per smettere di fumare, ma, ricorda, prima o poi, devi smettere anche di svapare, altrimenti, vizio era, e vizio rimane. Ciao ciao, alla prossima!